Con questi trucchi cucinare sarà ancora più facile. Metti dell'olio a scaldare. Intanto, taglia carote, sedano, cipolla e cipollotto. Aggiungi prezzemolo, curcuma, aglio e sale. Quando il soffritto sarà pronto, frullalo con un frullatore a immersione. Stendilo su una teglia con della carta forno e congelalo. Taglia a quadratini e ricoprili con della carta stagnola per ottenere un dado vegetale fatto in casa. Facilissimo da preparare e sempre pronto da utilizzare! Comodo e saporito! Prima di aprire le noci, falle bollire in acqua calda. Basterà stringerle un po' con le mani per sgusciarle. Geniale! Questo strumento non serve solo a schiacciare l'aglio. Usalo per spalmare il burro. Facile! Ricicla i contenitori delle spezie. Per svitare più facilmente il tappo, immergilo prima in acqua calda. Poi usa della carta stagnola come imbuto e riempi di nuovo il contenitore. Un'ottima idea anti-sprego! Il burro è troppo freddo? Scalda un barattolo di vetro con dell'acqua calda. Poi inserisci la confezione del burro all'interno. Questo servirà ad ammorbidirlo senza farlo sciogliere. Perfetto! Fai un foro nel limone con uno stuzzicadenti. Riuscirai a spremere facilmente il succo senza preoccuparti dei semi. La carta assorbente è scomoda da strappare? Sfrutta l'anta della credenza per uno strappo più facile. Pratica dei fori sul tappo di un barattolo con un pirografo. Incolla una spugna con la colla a caldo. Riempi il barattolo con del detersivo per piatti. La spugna sarà sempre insaponata e non dovrai sporcarti le mani. Molto pratico! Immergi un uovo sodo in acqua fredda all'interno di un barattolo e scuotilo. Perfettamente sgusciato in un attimo! Perfetto!